Sì, però prende due parti diverse. È un po' di più, però è un po' di più. E' un po' di più. e un po' meno per le persone che magari faccio anche una figuraccia faccio anche magari una figuraccia che magari va a fare come una persona cattiva valori, ma insomma perché si sono persi i valori non avendo dei valori si va a perdere anche poi un atteggiamento, un comportamento e quindi a quel punto ne perdono anche la figuraccia no no guarda, io vedo tanta cattività della parte dell'uomo che non c'è bisogno e capite quello invece c'è una necessità da parte dell'animale a dover comportarsi male, a dover decidere piuttosto da dover però si gestisce da sempre noi invece abbiamo regole, regolamenti, statuti non portata, però più attenzione del sole oggi ne faccio 30 proprio oggi, grazie allora, una volta aperti, una volta con la gamba chiusa no, non riesco no, non riesco devo... devo chiudere no, no, non riesco io mi auguro di darla domani domani immaginata salve arrivederci tanto ho giocato con la sua borsa hanno deciso che piaceva la mia borsa ah sì, dentro arrivederci, grazie grazie